Oggi ragazzi vi spiegherò come creare dei titoli di questo tipo con DaVinci Resolve ma soprattutto andremo a muoverli perché i titoli fermi non piacciono, giusto? Noi li muoveremo insieme agli oggetti. Eccoci qua nella schermata di edit, ovvero di montaggio della nostra timeline, del nostro video e noi dobbiamo andare ad aprire gli effetti, ovvero la libreria degli effetti perché qui abbiamo tutte le cose che possiamo applicare alle nostre clip e abbiamo anche i nostri titoli oltre alle transizioni. Abbiamo i lower third che avevo fatto un tutorial ragazzi anche su After Effects quindi magari andatelo a vedere se volete creare qualcosa di carino quindi sono i titoli quelli in basso, L vuol dire che ovviamente va a sinistra poi abbiamo l'M che va nel mezzo e l'R che ve lo sposta a destra. Abbiamo il titolo scroll, ovvero se io metto il titolo scroll questa cosa cosa succede? Scrolla, un po' come Star Wars. E poi abbiamo il nostro testo semplice che è quello che andremo a utilizzare oggi. Allora come funziona? Lo trasciniamo semplicemente sopra le nostre tracce video. Ora vado a rimpicciolino un attimo il primo video così almeno vedete meglio la timeline e questo è il nostro titolo e noi lo possiamo semplicemente allungare o accorciare come vogliamo noi come se fosse una clip. Mi raccomando utilizzate la calamita se volete lo snap oppure non utilizzate la calamita se non volete lo snap preciso insieme alle vostre clip. Per esempio io voglio che questo titolo appaia nella seconda clip così e almeno io quando vado a fare questo appare il titolo e via così. Ora la scritta è proprio nel mezzo, magari alcuni può andar bene. Per modificarlo semplicemente ci clicchiamo sopra se non avete aperto l'ispector sulla destra fatelo su in alto vedete che è già selezionato il testo e noi possiamo dargli un nome. Io lo chiamerò The Long Road. Qui possiamo selezionare il font, magari io metto un font tipo questo molto carino e qui la formattazione, utilizzerò Bold Italic, perché no? Qui possiamo andare a aumentare la dimensione del nostro testo e qui lo vado a strecciare un pochino per una maggiore distanza tra le lettere. Questo serve se avete testi su più linee, vi faccio vedere per esempio io metto Road sotto con lo spacing potete determinare quanto sarà staccata la linea sopra dalla linea sotto. Importantissime le ancore, se vogliamo il testo che sia centrato, questa qua nel mezzo centrato orizzontalmente, centrato verticalmente, questo vuol dire un po' più in alto questo vuol dire un po' più in basso, insomma così via. Poi la posizione la possiamo cambiare semplicemente andando qua a muovere con la manina e vedete che anche in questo caso appaiono le ancore oppure se volete fare le cose più precisamente basta utilizzare zoom posizione e rotazione. Wow, potete fare anche un titolo che gira. Poi abbiamo le ombre, potete sbizzarrirvi ragazzi, magari faccio un'ombra rossa così almeno abbiamo un effetto stile Grindhouse, la sfochiamo leggermente. La traccia non ci serve o perché no? Magari mettiamoci una traccia arancione invece che proprio rossa rossa e a questo punto allora non vado a fare la scritta bianca ma vado a fare la scritta leggermente arancione tipo così. Ora molti di questi valori li possiamo modificare in base al tempo, ovvero possiamo mettere un keyframe per modificarli via via che la clip si muove. Per esempio lo zoom. Posso mettere un keyframe all'inizio e fare ingrandire questo zoom. Andiamo a cliccare qua però e aumentiamo un attimo la timeline così vedete meglio di cosa sto parlando. Poi vado a cliccare qua dove ci sono le curve che abbiamo utilizzato anche per la rampa vedete che appare lo zoom esposto praticamente alla fine, nell'ultimo keyframe, aumento lo zoom del testo. Vedete che c'è l'aumento qua sulla nostra barra e il testo si ingrandisce, ok? Potete ingrandirlo, potete ruotarlo, potete fare un sacco di modifiche come vi pare a voi. Ma a noi non ci interessa magari tenere il video statico in questo modo. Noi vogliamo che si muova insieme a qualcos'altro. Per esempio, vediamo un po' se riesco a trovare una clip carina tipo questa e andiamo a mettere un titolo per tracciare questo furgoncino qua. Quindi vado a creare un nuovo titolo, lo metto sopra a questa clip qua e anche qui vado a cambiare il titolo. Ci riscrivono follow. Metto lo stesso font di prima, aumento la dimensione tipo così. Non sto a colorarlo come ho fatto prima. Vi faccio vedere una cosa. Praticamente se io vado nella pagina della color correction e è quella che dovremo utilizzare adesso per fare questo tracking, io non posso andare a selezionare il testo perché il testo giustamente non può essere modificato. A noi non ce ne frega. Noi lo selezioniamo, andiamo qua in alto su clip e facciamo new compound clip. Noi lo chiameremo testo. Vedete che da un testo diventa una clip. Se facciamo tasto destro e facciamo decompose ce lo rimette in testo. Ma a noi non ci interessa. È un po' come un documento avanzato di Photoshop. Se usate Photoshop. Capito, no? Più o meno. Ora soltanto che lo sfondo è nero e noi non serve lo sfondo nero. Quindi andiamo qua su dove c'è scritto la modalità diffusione da normale. Noi la cambiamo a aggiungi e ritorna tutto identico a prima perché il nero appunto viene nascosto. Ora come facciamo a far muovere questo testo senza stare a che fremmare il tutto che potevamo farlo anche prima? Semplicemente andiamo sulla nostra pagina di color e andiamo sulla nostra clip sotto. Vado a fare un nuovo nodo seriale e vado a utilizzare le funzioni di tracking. Però non utilizzeremo il window, utilizzeremo lo stabilizer. C'è da fare un'altra cosa, visto che è cambiato un pochino nel DaVinci 14, lo stabilizzatore è molto diverso dalla versione prima e questa cosa qui funzionava meglio sulla versione prima. Quindi facciamo clic sui tre pallini e mettiamo Classic Stabilizer. Così abbiamo tutte le nostre funzioni, vedete la differenza? Abbiamo il pan, lo zoom e il tilt che non ci sono nella versione nuova. Ma soprattutto abbiamo bisogno del Point Tracker qua giù in fondo, cosa che non c'è più nello stabilizer nuovo. Quindi noi dobbiamo andare sul Point Tracker, cliccare qua dove c'è il puntino, vedete qui Add Point Tracker, appare questa croce qua nel mezzo allo schermo e io la vado a mettere qua sul mio camion perché è quello che voglio tracciare, ok? È la cosa che voglio tracciare nella mia clip. Semplicemente vado a lasciare tutto così e vado a fare Track Forward. E vedete che se io vado indietro con la clip la X si sposta semplicemente dove è il camion. Ora questa cosa qua funziona benissimo se c'è tanto contrasto, se fate il tracking, tipo se mettevo la X qua nel mezzo non veniva nulla perché ci deve essere proprio questo cambiamento di contrasto e di colori, deve essere una cosa che si vede bene insomma, che si muove. Ora non cliccate Stabilizza perché se no mandate tutto a donne di facili costumi, ma ora andiamo a fare sempre clic sui tre puntini e noi facciamo Copy Track Data, quindi andiamo a copiare queste informazioni qui, clicchiamo sul nostro titolo, sempre nello stabilizzatore classico, quindi ritorniamo nello stabilizzatore classico anche nel nostro titolo e cliccate sui tre puntini e fate Paste. Vuol dire che ci incolla le informazioni che abbiamo raccolto prima, infatti vedete che appare la X rossa e se vado avanti segue il camion, come ho fatto prima. Ricordatevi di avere il meno 100 qua sotto e ora potete cliccare su Stabilizza. Che succede? Succede che adesso il nostro testo seguirà il nostro tracking e questo ci permette di tracciare le nostre cose e ora se torno nell'edit posso andare magari a spostare la posizione di questo titolo per mettere il camion dentro la O, una cosa di questo tipo. Vedete come appunto segue il camion. Se non vi torna questa cosa qua, se magari il Paste non vi torna e il tracking non va bene, assicuratevi di avere entrambe le clip allo stesso frame rate, quindi basta che ci fate tasto destro, fate Change Clip Speed e li mettete tutti e due alla stessa velocità perché altrimenti non funziona. Se questo tutorial vi è piaciuto ragazzi andate a vedere tutti gli altri video su DaVinci Resolve perché il corso sta prendendo sempre più forma e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!